Capitolo 4 Amalia Parisi era una bellissima ragazza mora, grande appassionata alla pratica sportiva della navigazione a vela. Veniva da Torre del Greco e aveva il mare nelle vene. Quel giorno venne a mangiare da sola al nostro ristorante. Più volte era venuta a Napoli per incontri ed eventi che intercorrevano tra i vari club che lei frequentava con l'entusiasmo della ragazzina al primo saggio scolastico. Appena la vi divarcare la soglia furono burrasche del pensiero. Il percorso tra la porta di ingresso e l'unico tavolo libero che stava dall'altro lato della sala fu il protagonista assoluto del Colossal. L'emozione è stata la sua camminata. Lì nasce tutto come una rosa che sboccia in una nuova e gaudente primavera. Mi sono innamorato perché camminava dolcemente con quelle sue gambe lunghe come le cubane al Maleson. Ce ne sono tante di donne con belle gambe che camminano senza violentare i passi. Lo so bene. Ma lei camminava non poggiando i piedi su questo suolo superfluo ma sulla stoffa di seta del mio cuore, già ben liberato ai suoi piedi come tappeto imperiale. E camminava senza farmi del male, liberando i lacci della sua lodata essenza e stringendola al mio petto, ormai stracolmo di grazia. E grazia di Dio erano quei folti capelli neri dirupati sul corpo dalle curve eleganti, quella bocca delicatamente socchiusa e i gomiti poggiati come gigli su un cuscino nuziale. Io la guardavo fisso, senza distrarmi, come quando da piccolo guardavo le cosce della maestra delle scuole elementari. Ma adesso niente a che vedere. Intorno a me c'era musica, c'era Leonardo da Vinci che dipinge la gioconda, c'era Giuseppe San Martino che scolpisce il Cristo velato. Gli faceva compagnia Michelangelo Bonarroti che affresca la cappella Sistina, Maradona che mette la palla nel sette contro le Juventus e Pino Daniele che compone Napule E. Questo è l'amore per me. Il battito del mio cuore aumentava gradualmente mentre Amalia raggiungeva il tavolo. Allora ho pensato che stesse correndo su questo velo di seta, che stesse aumentando la sua andatura, e invece no. Gli stessi passi a cadenza regolare. Una passeggiata lenta, come quella delle domeniche pomeriggio, con i negozi chiusi e i bar fuori posto, mentre le fontane applaudono a uno spettacolo ben riuscito. Sarà creato uno strano asincronismo tra i battiti del mio cuore e i suoi passi, ma il sangue scorreva per la stessa via. E lei si compiaceva di quella segreta alchimia, pur tenendo l'aspetto falsamente disinteressato. Il suo sguardo sostava oltre le mura. Il zio non mi avrebbe mai messo le mani addosso di questo nero certo. Stronzate. In quel momento mi arriva uno scappellotto indimenticabile dietro la nuca. Dovevo ritornare in cucina per mettere mano ai fornelli. Ed eccola, la schifosa realtà. Meschina! Arriva sempre alle spalle a darti le pugnalate. Fu l'unica volta che ho odiato sinceramente mio zio. Ebbi, per fortuna, tempo e modo per rimediare. Il giorno stesso. Sguardi ammiccanti, sorrisi ricambiati. E poi l'approccio. Fissammo un appuntamento per la settimana successiva. La vita mi mise subito la collana di fiori al collo in quell'occasione. Fu tutto piuttosto semplice come pedalare in discesa. E cavolo! La ruota gira pure per me ogni tanto. La carne divenne unica qualche tempo dopo. Dopo che, inevitabilmente, mi immersi in saggistiche di vela. Senza alcuna malizia, però. Senza ardore avviluppato impossibili scenari di sesso facile. Ciocchezzuole da marciapiede. Si parlava, e il suo profilo sorrideva con la sua mano sul volto, per non rompere quella magia che l'amore crea dal nulla. Così si consumò, tra grosse mutande e zip calate lentamente, dove raffiguravo patrie di continui paesaggi. Mi vedevo scorrere sotto i miei occhi, che andavano oltre a cercare il tramonto. Ma in quei momenti, ma in quei momenti, il tramonto è interminabile, perché imprigiona beatitudini. Non annunzierà mai la notte.